La fedeltà è dono dello Spirito Santo. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi. Leggiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 1 al 12. In quel tempo, Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito o marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro, che ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Amè. Carissimi amici, dal capitolo decimo del Vangelo secondo Marco, Gesù si dirige verso la Giudea, verso Gerusalemme e ha inizialmente queste domande da parte dei farisei che volevano metterlo alla prova. Uno dei punti più forti, non solo duemila anni fa, ma anche oggi, è il matrimonio. È la relazione tra l'uomo e la donna in un patto che noi appunto chiamiamo matrimonio. In Dio. Stiamo parlando quindi di unione nello Spirito Santo. Gesù dice e riporta il discorso all'inizio, quindi dalla Genesi. Dio li creò maschio e femmina. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una carne sola. Su questo argomento potremo fare decine di migliaia di video su molteplici argomenti, soprattutto quelli più attuali. Ciò che è più difficile, parlando del matrimonio, è la comunione, è stare insieme. Perché all'inizio chiaramente ci si sposa perché ci si ama, ci si vuole bene, ci sono degli elementi di attrazione. La difficoltà viene nel tempo. Ecco perché io oggi vorrei parlare della fedeltà. Perché la fedeltà, vediamo che è un dono dello Spirito Santo. La fedeltà è realizzabile e possibile quando un uomo che è cristiano cammina secondo lo Spirito. Prendiamo la lettera ai Romani al capitolo 8. San Paolo dice che noi possiamo camminare o seguendo lo Spirito faremo così morire le opere della carne oppure seguendo la carne e rattristeremo lo Spirito Santo che è in noi. Se noi viviamo nello Spirito, avremo i frutti dello Spirito. Leggete la lettera ai Galati al capitolo 5. Ma se noi camminiamo nella carne che è in direzione opposta allo Spirito Santo, avremo e commetteremo le opere della carne. Galati 5. Fornicazione, impurità, infedeltà, gelosia, dissensi. Quindi la questione non è tanto di incentrare il matrimonio o la vita insieme, coniugale, su alcuni principi che va bene. Ma la questione è se uno si sposa in Cristo deve camminare in Cristo e il cristiano da duemila anni che cammina in Cristo vive invocando quotidianamente lo Spirito Santo. Sapete che in Galati 5, se ve lo andate a leggere, si parla dei frutti dello Spirito. Amore, pace, fedeltà, mitezza, dominio di sé e di quell'amore che nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 San Paolo lo chiama agape. Noi diciamo carità, l'agape. Tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, tutto scusa. Com'è possibile la fedeltà? Se non camminando nello Spirito Santo, perché è lo Spirito Santo che illumina il mio cuore e mi fa essere fedele al mio coniuge, al mio compagno, al mio amato, alla mia amata. La fedeltà è possibile quando accogliamo in noi l'amore di Dio che si chiama Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci allontana dall'infedeltà. Ecco, la strategia di un matrimonio perfetto. Camminare entrambi nello Spirito Santo. Altrimenti non ha senso in Cristo vivere insieme. Guardate che sono cose semplici ma fondamentali. Lo dico da parroco e da pastore diversi anni. Se non c'è la fede, se non c'è lo Spirito Santo che poi è anche capacità di rialzarsi dopo alcuni scontri, dopo alcune divisioni, tutto finisce immediatamente. So che molte delle persone che ascolteranno questo video hanno avuto grandi ferite nel proprio cuore a causa di situazioni relazionali, familiari e anche di infedeltà. certamente lo Spirito Santo può fare cose nuove. Non poniamo limiti a Lui ma è necessario camminare nello Spirito altrimenti prevale la carne e quando prevale la carne l'uomo è infedele, l'uomo abbandona, l'uomo lascia. Ecco, i due saranno un solo corpo nello Spirito Santo. Non è facile però è una questione spirituale di preghiera, di comunione con Dio. Se non c'è la preghiera personale, se non c'è la relazione personale quotidiana con Dio, non ci sarà la fedeltà. Prima o poi la carne prevale sullo Spirito. Signore Gesù ti vogliamo ringraziare per questo brano e ti vogliamo anche presentare oggi tutte quelle situazioni dove non abbiamo potuto sperimentare questa benedizione nelle nostre vite. Anch'io ti voglio presentare ogni fratello e sorella che ascolta questo video ed è profondamente turbato, amarecciato e ferito per ciò che ha avuto nella propria vita. Spirito Santo scendi su di noi, scendi e porta la tua pace, porta nuove vie, nuove strade, crea cose nuove nella vita di coloro che sono stati davvero feriti e porta la presenza di Gesù che è l'amore, l'amore che si è offerto fino a donare la sua vita per ciascuno di noi sulla croce. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Ame. Cari amici, oggi lo slogan è la fedeltà e dono dello Spirito Santo. Deve essere chiaro, senza la preghiera, senza l'invocazione allo Spirito Santo e la sua parola non potrò mai essere fedele. Quindi camminiamo nella preghiera, nella parola di Dio e nello Spirito Santo e porteremo comunione nelle nostre famiglie. Vi ricordo il seminario online, Gesù nei quattro Vangeli che faremo tutti i martedì di giugno, ci si può iscrivere sul nostro sito web. Ricordo anche che domenica 2 giugno a Torino ci sarà un incontro meraviglioso, si chiama Corso Filippo, per sperimentare concretamente l'amore di Gesù che cambia la vita. Anche questo lo potete vedere e iscrivervi sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao! V sö From Per che il tuo serve ho ascoltato, parla, è